Buongiorno, oggi vi facciamo vedere come si può entrare in una porta blindata classe 3 con la comodità di non avere le chiavi in tasca, ma in massima sicurezza. Applicazione, seleziono la porta che voglio aprire perché potrei avere diverse porte, la porta si apre, entro in casa. Quando vado via di casa, allo stesso modo, non tiro fuori le chiavi dalla tasca, non perdo tempo e la serratura si richiude in automatico. Massima sicurezza sempre da Bisacchi. Ciao.